L'insalata c'è sempre perché l'insalata io la compro, poi la lascio in frigo, poi la butto via, è un destino infelice quello dell'insalata, sento un po' una capretta che mangia erba, ma è possibile che uno fa la spesa in continuazione tutti i giorni, poi vuoi mangiare qualcosa, non c'è mai? Io mi ero nascosta da qualche parte, ma di che cosa stai parlando? Sto parlando dell'inizio del libro che mi hai detto prima, della vita breve, non è così come hai detto adesso. Ma se non sai neanche leggere. Eh no, no, io so leggere, comunque l'altra volta me l'hai detto in un altro modo. E vabbè adesso te lo racconto in un altro, vabbè ho cambiato idea. Sì però mamma, tu cambi sempre tutto, prima è una cosa, poi è un'altra, è sempre tutto diverso. Ma guarda, basta con questa vita da invertebrata e te l'ho dato, che vuoi? Mi è scappato proprio, sulle dita da mesi, lì che mi prudeva e mi son tolta allo sfizio, ma come perché? Perché sei uno strazio, una croce sei e questo è quello, quell'altro, d'aria, c'hai tutto tu, capitano tutte a te e santi Dio, cos'è? Cos'è quel muso dai, fai qualcosa. No, guarda, anzi adesso tu chiudi gli occhi andiamo di là a cantare Volare a squarciagola, poi ti regalo il disco, tu te lo ricordi, volare. Mi fa. Sì, volare, niente. Esistono, esistono le giornate, no, io lo so, lo so, tra l'altro io le sento anche arrivare, sì perché le giornate no cominciano la notte prima perché a me o qualcun altro è andato male qualcosa nel sonno e poi sono io, io che lo pago con le mie pene del giorno dopo. Quando mi sveglio non è che capisco subito che è una di quelle giornate perché mi alzo, caffè normale.